benvenuti a questa lezione di sistemi informativi aziendali in cui cercheremo di approfondire meglio i modi più avanzati di utilizzare i costrutti bpmn per andare a modellare dei processi uno dei punti fondamentali che molto spesso succede di dover descrivere utilizzando un processo bpmn è quello di andare a fare dei cicli cicli che conoscete tutti benissimo sono anche utilizzati moltissimo nei linguaggi di programmazione e come nei linguaggi di programmazione è possibile avere dei cicli di due tipi che verificano la condizione per poter restare nel ciclo e quindi ripetere le attività all'inizio oppure alla fine quello che nei linguaggi di programmazione si chiama do while è il ciclo che permette di verificare una condizione alla fine del ciclo e quindi sostanzialmente esegue comunque almeno una volta l'iterazione per cui il ciclo che vediamo scritto in pseudo linguaggio in alto in cui abbiamo sostanzialmente do e while in fondo con una verifica una valore booleano more items che permette di eventualmente ripetere la lettura e la scelta può essere descritto in bpmn utilizzando le due attività rid item e pick item e poi un nodo esclusivo che verifica se ci sono nuovi elementi e allora torna indietro oppure se non ci sono altri elementi prosegue nel processo in questo caso termina per andare a fondere i due cicli quindi l'ingresso per la prima volta e il la ripetizione quando è necessario è necessario mettere questo nodo di merge che permette di andare a fondere questo flusso entrante e quest'altro flusso di ritorno per cui se io parto con un token che entra e ovviamente prosegue quindi fa rid item successivamente fa il pic item from warehouse dopodiché va a verificare se esiste la condizione per andare a ripetere se ci sono nuovi elementi riparte da capo riesegue rid item riesegue il pic item e di nuovo si pone la domanda se esistono le condizioni se non esiste più la condizione esce l'altra tipologia di ciclo è un ciclo in cui la verifica se è necessario andare a ripetere le operazioni viene fatta all'inizio e quindi potenzialmente le azioni previste in questo ciclo potrebbero non essere mai eseguite se la verifica iniziale è sostanzialmente negativa per cui in questo caso quando vado a iniziare l'attività verifico se la condizione è vera se è vera entro in questo ciclo e quindi eseguo le due attività finita le due attività riparto dall'inizio in questo caso ho utilizzato un unico gateway che rappresenta sia una decisione che un merge se volete per chiarezza è possibile andare a suddividere il gateway quindi utilizzare due gateway distinti uno per il merge e uno per la scelta nel caso in cui il gateway di scelta trovi che la condizione more item non è più vera allora semplicemente si va oltre in questi casi si finisce ma si potrebbe proseguire con attività successive ovviamente questi cicli sono detti cicli strutturati ovvero dei cicli in cui ho un punto d'ingresso di qua e un punto d'uscita di qua esattamente anche nel caso precedente qui ho un punto d'ingresso e un punto d'uscita è possibile avere dei cicli che non siano strutturati in cui non esiste un unico punto d'ingresso nella ripetizione un unico punto d'uscita ovviamente in questo caso è meglio cercare di ricondursi al caso dei cicli strutturati quindi un ingresso un'uscita molto semplice quindi un blocchetto che io posso utilizzare e soprattutto capire facilmente rispetto a strutture ad esempio come queste in cui non è ben chiaro dove un ciclo inizia dove esce per cui questa serie di ripetizioni potrebbe uscire di qua potrei entrare di qua quindi ho problemi nel capire esattamente come funziona quindi sebbene sia possibile utilizzare dei cicli arbitrari non strutturati in generale preferibile che siano strutturati un altro costrutto che è possibile utilizzare in bpmn è quello della terminazione implicita in generale io quando ho un processo o una sequenza di attività queste attività possono terminare normalmente quello che succede è che quando io metto un nodo di fine il token che arriva in quel punto viene semplicemente distrutto perché ho raggiunto la fine mentre gli altri token che esistono all'interno del processo non vengono minimamente toccati per cui in questo caso quando io ho un token che arriva e quindi esegue la prima attività nel momento in cui raggiunge il token di fork il token viene sdoppiato e segue i due percorsi alternativi è ovvio che quando il token procede ad esempio nel percorso superiore e raggiunge il nodo l'elemento di fine solo quel percorso termina mentre invece l'altro token che vediamo in basso continua a essere attivo e quindi finché non avrà raggiunto anche lui la fine non succederà nulla un caso diverso è quando io utilizzo questo evento particolare che viene detto di terminazione esplicita in questo caso quando il token raggiunge il nodo di terminazione esplicita tutti i token di quella istanza di processo vengono eliminati e quindi completamente termino il processo qui il token viaggia esegue un'attività arriva al fork si duplica i due token seguono le due strade alternative e nel momento in cui il token del percorso superiore raggiunge il nodo di terminazione esplicita tutti i token vengono eliminati da quelle istanze di processo attenzione io posso avere più istanze di processo ovviamente io elimino soltanto i token dall'istanza di processo in cui è stato raggiunto quel nodo di terminazione esplicita questo può essere utile se io ho più attività e quando un'attività svolta dopo quella io voglio terminare completamente il processo indipendentemente da altre attività che potrebbero essere in corso contemporaneamente quindi posso utilizzare la terminazione esplicita come in questo caso oppure il nodo terminale usuale che è una terminazione implicita ovvero termino esclusivamente il percorso in cui si trova il token mentre invece gli altri percorso in cui ho altri duplicati del token non vengono minimamente toccati posso utilizzare la terminazione implicita esplicita per andare a costruire delle strutture e di decisione molto particolari una di queste è quella che si chiama decisione implicita allora la decisione esplicita è quella che abbiamo già visto quindi quando io ho un gateway esclusivo arriva a quel punto il sistema informativo che gestisce il workflow capisce se la condizione oggetto di quel gateway è verificata oppure no e quindi segue una strada piuttosto che l'altra quindi la informazione necessaria per decidere quale strada seguire è già nota a priori è possibile che in altri casi non sia noto all'inizio a priori quale percorso seguire per cui posso utilizzare una soluzione che è detta per l'appunto decisione implicita ovvero una decisione una situazione in cui ho un gateway parallelo inclusivo che sostanzialmente nel momento in cui arriva il token lo duplica e fa attivare contemporaneamente le due attività nei due rami a questo punto cosa succede invece di proseguire i due rami indipendentemente nei due rami io vedete ho messo due eventi terminali di fine esplicita questo vuol dire che qualunque dei due token abbia il via libera per primo quindi qualunque delle due attività venga conclusa per prima automaticamente quel token il token che corrisponde a quel percorso raggiungerà il nodo di terminazione esplicita e quindi andrà a eliminare anche l'altro token in attesa in questo caso cosa succede la decisione dell'attore di svolgere un'attività piuttosto che l'altra immaginando che siano due attività che vengono svolte dallo stesso attore che interagisce con il sistema implicitamente disabilita l'altra quindi la decisione non è fatta esplicitamente quindi non è l'attore che dice voglio fare il quick delivery piuttosto che il normal delivery ma bensì è l'attore che fa o uno o l'altro e nel momento in cui fa uno disabilita implicitamente l'altro per questo si chiama decisione implicita sostanzialmente l'alternativa è quella di utilizzare una decisione esplicita quando io utilizzo una decisione esplicita quindi ho un gateway di tipo esclusivo devo avere in questo momento quindi prima di avere la biforcazione del processo già le informazioni necessarie per prendere la decisione per cui nel caso in cui io abbia una decisione esplicita devo avere prima ad esempio un'attività in cui l'utente inserisce dei dati e in base a quei dati viene presa la scelta di andare da una parte o dall'altra la decisione implicita sostanzialmente ritarda il momento della decisione e implicitamente prende la decisione di fare un'attività piuttosto che l'altra sulla base di quale delle due attività viene per prima conclusa dall'attore un altro tipo di attività è quella che si chiama attività complessa o sottoprocesso in particolare per semplicità di rappresentazione grafica può essere utile andare a indicare un'attività complessa che di solito viene messa con questo più qui che indica che all'interno del processo c'è di più quindi io posso espandere quell'attività e andare a vedere dei dettagli i processi le attività complesse i sottoprocessi possono anche oltre ad essere racchiusi così e nascosti e poi descritti ragionevolmente in un diagramma separato possono anche essere rappresentati in maniera espansa per cui io ho un processo che ha questa attività complessa seguitela quest'altra è ovvio che vado a rappresentare in questo modo la mia attività complessa e al suo interno vado a mettere sostanzialmente un processo processo che come in tutti i casi inizia con un evento di start e termina con un evento di end solo che questo evento di end non termina tutto il processo ma termina semplicemente questa attività complessa per cui quando io ho un token che entra o attiva un'attività complessa che cosa succede quel token viene messo un attimo in pausa e viene attivato un nuovo token che funziona e semplicemente permette di capire a che punto è l'attività complessa o meglio le attività contenute all'interno dell'attività complessa per cui attivo l'attività A passo successivamente alla B quando termino il sottoprocesso il token del sottoprocesso viene chiuso e praticamente viene liberato il token dell'attività complessa che quindi può procedere avanti. A cosa serve avere delle attività complesse espanse? Allora può essere utile per andare a confinare una certa fase di un processo ma può anche essere un metodo per andare a definire una serie di attività limitate che hanno un contesto di esecuzione ridotto. Se io combino questa possibilità di avere dei sottoprocessi espansi e la decisione implicita che avevamo visto prima posso andare a descrivere le cose in questo modo. Posso mettere una decisione esplicita, scusate, una decisione implicita all'interno di un sottoprocesso espanso. A questo punto questi due nodi di fine esplicita che cosa fanno? Si applicano non all'intero processo che comprende anche questo continua ma bensì si applicano esclusivamente a questo sottoprocesso. Per cui l'alternativa 1 e l'alternativa 2 in pratica si disabilitano l'un l'altra e terminano questa attività complessa permettendo di andare avanti avendo svolto o una o l'altra con una scelta cosiddetta implicita. Per cui quando io ho il token che arriva questo viene momentaneamente congelato, se ne crea uno nuovo che permette di andare a svolgere tutto quanto descritto nel sottoprocesso, in questo caso ho il raddoppio dei token che vanno nelle due attività alternative, a questo punto la scelta implicita consiste nell'andare a svolgere l'alternativa 1 o l'alternativa 2 per cui quando svolgo un'alternativa viene scelta implicitamente vado a disabilitare l'altra, libero il token dell'attività complessa che quindi può andare avanti quindi posso utilizzare una scelta implicita anche come una fase iniziale di un processo. Se io utilizzassi la scelta implicita come l'avevamo vista nel caso iniziale qui è ovvio che il processo qua termina perché questo nodo di fine esplicita automaticamente elimina tutti i token che stanno nel processo quindi non posso andare avanti e se non ci fosse questo non riuscirei a disabilitare. Quindi il trucchetto di andare a mettere questa scelta implicita all'interno di un processo espanso mi permette di fare la scelta implicita e poi andare avanti col processo che però sta a un livello più elevato. Infine a volte può succedere di avere una serie di attività che non hanno un ordine di esecuzione ben preciso. Possono essere svolte in diversi ordini, possono essere svolte eventualmente più volte e alcune potrebbero essere non svolte del tutto. Ecco questo ovviamente non lo posso andare a rappresentare con la struttura di un processo con scelte, parallelismo eccetera. Quando mi trovo in questo caso che cosa faccio? Posso utilizzare un processo ad hoc, quindi utilizzare di nuovo una variante del sottoprocesso espanso in cui vado a mettere questo simbolo di onda o tilde se preferite e all'interno di questo sottoprocesso andare a mettere tante attività completamente slegate l'una dall'altra. Che cosa vuol dire? Vuol dire che quando questo sottoprocesso viene attivato posso andare a svolgere tutte queste attività in un ordine qualunque ed eventualmente ripetendole. Infine quando io ho un'attività che può essere ripetuta più volte posso metterla all'interno di un ciclo ma eventualmente posso anche andare a indicarla con questo simbolo di ripetuta dicendo che questo compito viene ripetuto più volte. Immaginate, non so, di dover andare a elaborare una serie di input. Ecco io posso utilizzare questo repeating per andare a dire che ripeto l'attività per ogni input. invece di andare a mettere tutta la struttura con la scelta se ci sono altri elementi ripeto l'attività. Questo vuol dire che le ripetizioni vengono fatte una dopo l'altra. Un altro modo di andare a rappresentare il fatto che io possa avere esecuzioni di un'attività multiple è quello tramite questi simboli che indicano che quella attività viene svolta più volte e quindi ci sono più istanze di quell'attività. È come se ci fosse un parallelismo in cui attivo più istanze. Le istanze poi possono essere assolutamente indipendenti e quindi ho queste strisce orizzontali oppure possono essere, come si dice, serializzate andando a dire che ho più istanze di quell'attività e vengono volte una dopo l'altra. Ovviamente in questo caso io non ho specificato nel disegno grafico del processo quali sono i criteri con cui vengono fatti o quali molteplicità ci sono queste sono proprietà che io posso andare a specificare all'interno dei dettagli di questa attività. A questo punto introduciamo un nuovo elemento dei processi BPMN che rappresenta gli eventi. Finora abbiamo visto semplicemente due tipi di eventi quello di inizio e quello di fine. In realtà c'è un altro tipo di evento che è quello intermedio e inoltre non solo ho la possibilità di avere eventi intermedi ma ho anche diverse tipologie di eventi quindi inizio, intermedio e fine ma anche messaggi, timer, errori, eccetera, eccetera. Vediamo un attimo come funzionano le diverse tipologie di eventi oltre alla loro posizione inizio, intermedio e fine. Iniziamo da quello forse più semplice da capire è gli eventi di tipo timer. Un evento di tipo timer permette di far attivare un token o farlo avanzare quando si raggiunge una specifica scadenza. Per cui l'evento di tipo start timer permette di andare a attivare un processo a un certo istante oppure a una certa data con un certo intervallo ad esempio ogni settimana, ogni venerdì oppure come intervalli ricorrenti quindi ogni 10 minuti ogni giorno ogni venerdì ogni fine mese, eccetera. Quindi questa attività di clean up verrà eseguita ogni venerdì. Attenzione che uno start timer prevede di conoscere in anticipo e che sia ben predefinito la scadenza con cui far partire il processo. Quindi è un tempo noto a priori al sistema. Non posso dire quando l'utente è pronto perché quando l'utente è pronto non è un tempo ben definito. Quando l'utente è pronto viene modellato con un semplice evento di inizio in cui l'utente avvia l'istanza di processo quando vuole a virgolette quando è pronto. posso anche avere dei eventi di tipo intermedio timer. Quindi cosa succede? Succede che quando un token arriva a un evento intermedio di tipo timer il token viene bloccato e viene liberato quando si raggiunge la scadenza. Anche in questo caso la scadenza è un qualcosa che deve essere noto prima nel senso che il token arriva lì fa partire un timer o qualunque altro tipo di meccanismo che una volta scaduto permette di far avanzare il token. Quindi cosa succede? Quando io ho un token che raggiunge un evento di tipo timer parte un timer e quando il timer scatta il token viene liberato e può avanzare. quindi è una specie di porta chiusa che si apre quando scade il timer. Ovviamente il timer deve essere un evento noto. Quindi di nuovo non quando ho finito riferito all'utente perché quando ho finito io non lo so o meglio il sistema informativo non lo sa. Quindi devo andare a utilizzare una scadenza che sia nota a priori ovvero nota almeno nell'istante in cui io arrivo il token arriva in questo evento intermedio di tipo timer. Quindi primo tipologia di eventi quelli di tipo timer. Ovviamente non ha senso che ci sia un evento di tipo timer terminale nel senso che il processo quando arriva lì termina e quindi non è che aspetto un certo tempo prima di terminare. Termina e basta. Un altro tipo di evento è quello dei messaggi. Quindi un messaggio permette di andare a trasferire informazioni tra sostanzialmente due entità diverse due processi completamente diversi. Attenzione lo scambio di messaggi viene fatto tra processi distinti ovvero tra processi che graficamente si trovano in pool diversi. Non ho bisogno di alcuno scambio di messaggi quando sono all'interno di un processo perché all'interno di un processo le informazioni sono disponibili quindi non ho bisogno di passare un messaggio le informazioni sono disponibili e se volete sono trasportate attaccate come una specie di post-it al token che viaggia all'interno del processo quindi non ho bisogno di mandare un messaggio i messaggi servono per poter andare a sincronizzare mettere in comunicazione dei processi distinti che quindi vengono disegnati esplicitamente all'interno di pool separati io posso utilizzare varie varie strutture che si scambiano messaggi quindi ad esempio in questo caso vedete che ho due processi distinti e ho un messaggio che parte quando ho la letterina scura significa che questo è l'invio di un messaggio quando ho la lettera chiara significa che questo è la ricezione di un messaggio quindi un token che arriva in un evento di invio messaggio praticamente scatena l'invio del messaggio e prosegue un evento di tipo ricezione del messaggio sostanzialmente si blocca e viene sbloccato nel momento in cui il messaggio viene ricevuto mentre nel caso del timer il token si blocca e viene liberato nel momento in cui scade il timer nel caso del messaggio il token viene liberato nel momento in cui arriva il messaggio questo mi permette di andare a realizzare una struttura che si chiama scelta differita in particolare per fare la scelta differita in BPMN posso utilizzare questo gateway particolare che si chiama event-based gateway l'event-based gateway sostanzialmente viene seguito da più eventi eventualmente di tipo diverso in questo caso una ricezione di un messaggio è un evento temporale potrei avere tante ricezioni di messaggio tanti eventi temporali quello che volete la regola che sostanzialmente è legata a un event gateway è essenzialmente quella di essere seguito da eventi quindi io non posso mettere un'attività come proceed dopo un event gateway ma devo avere esclusivamente degli eventi perché perché questo event-based gateway sostanzialmente che cosa fa va a considerare tutti gli eventi va a considerare tutti gli eventi e attiva il primo il percorso che corrisponde al primo evento che avviene quindi in pratica che cosa succede succede che quando il token arriva a questo event-gateway questi eventi vengono abilitati quindi parte un timer e ci si mette in attesa del messaggio il primo dei due praticamente disabilita l'altro ok? quindi è quella che si chiama nel gergo una scelta differita ovvero ovvero la scelta non è fatta sulla base di informazioni che ho prima come nel caso della scelta esplicita il gateway esclusivo non è fatta sulla base implicita di quale attività viene fatta prima o dopo ma è sostanzialmente differita a quale evento avviene prima quindi il primo evento determina quale percorso andrò a scegliere quindi se prima arriva il messaggio di conferma andrò a seguire questo percorso se invece prima del messaggio di conferma arriva il timeout ovvero l'istante in cui scade il timeout allora andrò a seguire questo percorso per cui posso andare a avere delle situazioni di coordinamento tra diversi processi attenzione ricordiamoci che i messaggi servono esclusivamente per andare a coordinare diversi processi per cui io in questo caso un processo di aste ad esempio in cui io chi vuole fare un'offerta che segue quest'altro processo quindi questo è il processo principale di gestione dell'asta questo in alto invece è il processo di chi vuole fare l'offerta quindi l'offerente che cosa succede che quando inizia il processo di asta in pratica vado a abilitare vado a aprire la sostanzialmente a fare pubblicare l'offerta quindi ad aprire l'asta dopodiché ho un event-based gateway che mi abilita questi due percorsi e questo o questo verranno eseguiti in base a quale tra i due arriva per primo in parallelo io ho un offerente che prepara l'offerta la invia e poi aspetta una risposta quindi quando l'offerta viene inviata il processo di gestione dell'asta la convalida e manda una risposta in cui dice sostanzialmente se l'offerta è valida oppure no e a questo punto chi ha mandato l'offerta vede la conferma che la sua offerta è andata a buon fine se è andata a buon fine sostanzialmente ha finito altrimenti possiamo immaginare che riparta prepara un'altra offerta e la rimandi quando viene inviata la risposta che dice che l'offerta è stata convalidata o meno quindi comunque l'esito della validazione dell'offerta questo processo torna indietro e quindi riabilita il nostro gateway basato sugli eventi e quindi di nuovo mi metto in attesa di un messaggio oppure della scadenza di un certo timer il timer ragionevolmente è il timer che mi definisce il tempo limite per sottomettere delle offerte quindi tutte le offerte che arriveranno prima del tempo limite scateneranno questo evento e quindi faranno avanzare il token faranno fare una validazione permetteranno di andare a rispondere e poi ritorneranno qui a riabilitare la ricezione di altri messaggi ma anche la scadenza del timer nel momento in cui il timer scatta non è più possibile ricevere dei messaggi perché il token va avanti da questa parte e quindi qui ci sarà la valutazione delle offerte e la scelta delle vincitori dell'asta ovviamente io posso avere più offerenti che partecipano al processo quindi questo processo può essere può avere molte istanze che interagiscono con una stessa istanza del processo di gestione delle aste ok e l'interazione avviene tramite messaggi il messaggio presuppone che chi invia il messaggio sappia chi lo riceverà quindi quale istanza di processo andrà a riceverlo in questo caso io so che sto preparando un'offerta per una certa asta e quindi so a quale processo inviarla e qui so a chi rispondere perché è lo stesso che mi aveva dato l'offerta prima può succedere di avere casi in cui io non so esattamente a chi inviare un messaggio per cui esistono degli eventi di tipo segnale che consentono di andare a inviare una notifica a chiunque sia interessato vediamo il caso precedente del processo è ovvio che io quando apro un'asta potrei inviare una notifica dicendo che l'asta è aperta il punto è come faccio a sapere a chi mandarla non so in anticipo chi parteciperà all'asta ok l'asta per l'appunto è qualcosa di aperto e quindi l'informazione viene mandata a tutti per cui questo è un caso specifico in cui io potrei mandare un segnale per cui posso andare a complicare un pochettino il processo che abbiamo visto prima andando a mettere anche dei segnali segnali che per l'appunto sono inviati a chiunque per cui di nuovo il processo di preparazione e di gestione dell'asta avvio il processo apro l'asta e mando di nuovo vedete il triangolino scuro corrisponde all'invio di un segnale un segnale che informa tutti gli interessati che l'asta è aperta a questo punto chiunque sia interessato riceverà questo segnale e quindi permetterà di andare a preparare l'offerta inviarla ricevere la conferma esattamente come prima in questo caso poi ho aggiunto un altro dettaglio ovvero un segnale finale quindi l'evento finale in realtà manda un segnale quindi quando il processo termina in questo modo quindi scade la fine dell'asta valuto e scelgo il vincitore e poi termino il processo inviando un segnale segnale che poi sarà ricevuto da tutti gli interessati quindi chiunque sia in attesa su quel tipo di segnale lo riceverà e quindi i token andranno avanti e permetteranno a chi ha partecipato all'asta di vedere risultati quindi la mia partecipazione all'asta è attivata da questo segnale che mi permette di preparare l'offerta se io ricevo se io ricevo il segnale ma non mi interessa preparare l'offerta semplicemente questa attività non la svolgo per chi invece ha preparato l'offerta ha ricevuto la conferma ha visto la conferma è bloccato qua finché non è stato scelto il vincitore la scelta del vincitore invia un segnale a tutti e a questo punto posso andare avanti e vedere il risultato e poi terminare il mio processo per cui ho sia messaggi che sono inviati a specifici istanze di processo sia segnali che sono inviati a tutti e quindi mi permettono di avere un invio non selettivo ulteriore distinzione necessaria quando andiamo a parlare di eventi è quello tra eventi sincroni e asincroni tutti gli eventi che abbiamo visto prima sia i messaggi che i segnali sono di tipo sincrono ovvero il ricevente all'interno del processo ha un momento in cui si blocca e aspetta per l'appunto sincronamente di ricevere il messaggio o il segnale in alcuni casi invece non è possibile avere un istante preciso in cui un segnale possa essere ricevuto quindi io non so esattamente quando andare a mettermi in attesa per cui questi segnali sono detti asincroni ovvero sono dei segnali che possono arrivare in qualunque momento durante l'esecuzione ad esempio di un'attività un esempio di segnale di evento asincrono è quello che viene utilizzato come evento diciamo marginale boundary potrebbe essere tradotto in questo modo su un'attività quindi quando io metto un evento intermedio sul margine di un'attività significa che questa attività viene svolta normalmente ma durante il suo svolgimento può accadere un particolare evento nel caso di quello che vediamo in questo esempio accade la ricezione di un messaggio quindi io svolgo la mia attività durante l'attività può arrivare il messaggio e allora farò qualcosa oppure può non arrivare nessun messaggio e quindi l'attività termina e procedo tranquillamente gli eventi di tipo boundary sono di due sotto categorie specifiche interrupting e non interrupting un evento di tipo boundary interrupting sostanzialmente quando accade quindi se viene ricevuto un messaggio durante l'esecuzione di questa attività interrompe l'esecuzione dell'attività quelli invece non interrupting sostanzialmente permettono di ricevere il messaggio ma non interrompono l'attività quindi lasciano tranquillamente alla sua esecuzione come posso utilizzare queste due tipologie di eventi di tipo boundary ad esempio io posso avere un evento di tipo boundary di tipo timeout come questo è un evento di tipo interrupting quindi cosa succede che io ho un'attività di conferma e ho questo evento di tipo boundary interrupting cosa succede quando il token raggiunge questa attività viene attivato il timeout e se il timeout scade prima che l'attività sia completata scatta questo quindi il token di questa attività viene sequestrato viene mandato lungo questo flusso per cui nel caso specifico termina il processo però qui su questo flusso potrei avere delle attività un processo complesso a piacere se invece prima che scada il timer il nostro la nostra attività viene completata il token va avanti e quindi questo timer viene cancellato altra variante molto simile con un evento di tipo non interrupting in questo caso l'evento non interupti in funzione in maniera analoga almeno per l'avvio quando il token entra in questa attività viene avviato il timeout il nostro timer se l'attività viene completata prima che scada il timer non succede nulla vado avanti normalmente se invece quando scade il timer l'attività è ancora in corso non è stata completata cosa succede viene generato un nuovo token che viene mandato lungo questo flusso per cui ad esempio viene mandato un reminder qui l'ho emesso come un'attività automatica per cui potrebbe essere l'invio di un di un email o di un sms o di un messaggio di qualunque tipo attenzione l'invio di un email viene fatto in questo modo come un attività automatica i messaggi che abbiamo visto prima non c'entrano nulla con l'invio di email o di sms o di altri tipo di messaggi al nostro utente i messaggi di prima servono per andare a sincronizzare due processi distinti quindi sono messaggi tra processi non verso o da i nostri utenti tra l'altro quando io ho un evento di tipo boundary posso anche proseguire il mio processo facendo delle azioni alternative per cui ad esempio questo è un evento di tipo boundary di tipo ricezione di messaggio interrupting per cui se durante l'attività di preparazione del documento arriva un messaggio che il documento è già presente per cui qualche altro processo mi segnala che il documento è già pronto che cosa faccio interrompo questa attività e seguo questo flusso in cui vado a recuperare l'elemento preesistente il documento preesistente e poi mi ricongiungo con questo nodo di merge con questo gateway di merge al flusso del processo principale quindi io qui arrivo sia nel caso in cui avevo preparato il documento sia nel caso in cui durante la preparazione del documento arrivi un messaggio e quindi io poi successivamente faccia il recupero del documento preesistente a questo punto in ogni caso raggiungo questo nodo di merge e vado avanti con la revisione del documento altre caratteristiche di altre tipologie di di eventi sono quelli di errore per cui è possibile che avvenga un errore e quindi avvio un processo questo nodo di avvio quando c'è un errore interrompo un'attività se c'è un errore oppure alla fine di un processo invio un messaggio d'errore per cui in bpmn se devo andare a gestire delle eccezioni quindi errori che possono accadere durante un l'esecuzione di un processo quello che faccio è di andare a utilizzare dei boundary event di tipo error quindi io ho l'inserimento di un ordine che poi può proseguire in un processo che qui non è indicato oppure se durante l'inserimento di un ordine arriva un errore di qualunque tipo ovviamente dovrò andarlo a descrivere in qualche modo ma non in maniera grafica nel modello bpmn questa attività viene interrotta e quindi ad esempio viene fatta una richiesta di riordine altra sintassi che io posso utilizzare per gestire degli eventi tipo asincrono quindi oltre ai boundary event quello che posso fare è di andare a utilizzare questi sottoprocessi di tipo evento quindi quando ho un processo di tipo evento che cosa faccio vado a utilizzare questa notazione quindi il bordo è tutto tratteggiato e sta a indicare che all'interno di questo sottoprocesso espanso o la gestione di eventi eventi asincroni che possono accadere durante una qualunque dell'attività del processo quindi nel caso specifico io qui ho un evento non interrupting di tipo timer però ovviamente potrei avere degli errori potrei avere dei messaggi se l'evento specifico avviene durante il processo nel caso di questo esempio se il timer scade prima che il processo sia completato che cosa succede è un evento non interrupting quindi l'attività non viene minimamente disturbata ma semplicemente viene inviato un reminder se questo evento fosse di tipo interrupting che cosa succede che qualunque attività io stessi eseguendo quando è scaduto il timer l'attività viene interrotta e si esegue questo sottoprocesso di gestione degli eventi asincroni quindi in questo modo io posso andare a scrivere un processo molto molto semplice lineare senza dover andare a verificare periodicamente ad esempio dopo ogni attività se c'è una situazione particolare e andare a gestire le situazioni anomale ad esempio scadenze che arrivano piuttosto che messaggi che arrivano da altri processi o errori con questi processi di tipo asincrono questo conclude sostanzialmente la nostra panoramica di buona parte dei costrutti che ci sono in BVMN non li ho elencati tutti ho elencato semplicemente i principali che possono essere utilizzati nei casi più comuni ma con tutti questi costrutti noi siamo in grado di andare a descrivere diciamo il 95 99% dei processi che possono essere implementati in un sistema informativo aziendale quindi oggi abbiamo visto costrutti un po' più complessi in particolare abbiamo visto come posso andare a realizzare dei cicli con un test alla fine oppure con un test all'inizio e abbiamo visto come posso utilizzare la terminazione esplicita per andare a fare quella che è una decisione implicita quindi la prima attività che scelgo è quella che determina il percorso che sto scegliendo in alternativa a quella che è una scelta esplicita dove ho un'attività precedente il mio gateway di scelta in cui vengono acquisite le informazioni per andare a seguire un ramo piuttosto che l'altro abbiamo visto come possiamo utilizzare eventi di diverso tipo ad esempio eventi di tipo timer per andare a gestire delle scadenze come posso utilizzare dei messaggi e degli eventi per andare a sincronizzare dei processi diversi ricordatevi che i messaggi invio ricezione e i segnali di invio e ricezione riguardano esclusivamente delle informazioni che circolano all'interno del sistema informativo che permettono di sincronizzare diversi processi non riguardano minimamente messaggi di tipo email o messaggi di tipo sms che vengono inviati agli utenti quelli sono fatti tramite delle normali regolari attività automatiche infine abbiamo parlato degli eventi asincroni che possono essere rappresentati tramite dei boundary event quindi eventi asincroni che vengono gestiti esclusivamente per l'attività che stiamo considerando e infine eventi asincroni gestiti in processi di tipo evento che permettono di andare a gestire eventi asincroni che accadono durante un momento qualunque dell'esecuzione di questo processo di questo